In mattinata Minadeo si è spostato verso la vicina Benevento per alcuni appuntamenti di mercato. C'è da chiudere per qualche under e per due senior. La prudenza non è mai troppa. Il Campobasso preferisce fare i nomi, alcuni dei quali già condotti in porto al 99%, quando sarà possibile stabilire con i giocatori promessi anche un legame scritto, cioè solo da domani in avanti. Il lavoro di DS allenatore è all'unisono. Minadeo cerca di accontentare le richieste del neotecnico Rosso-Blu, di cui si dice un grande bene, secondo tanti pareri che stiamo raccogliendo, anche negli ambienti giornalistici di piazze in cui Cappellacci ha lavorato. In generale il mercato sta subendo una fase di stanca, probabilmente dovuta a un'attesa strategica messa in atto dalle squadre di Serie D. Aspettare può essere una buona mossa, sì, ma aspettare cosa? Forse che i pezzi pregiati abbassino le pretese economiche per ora alle stelle, soldi non ce ne sono molti in giro. Il risultato è che di acquisti se ne fanno pochissimi, uno ogni tanto e tutt'altro che altisonanti. Sembra quasi che si stia facendo un'asta del fantacalcio. I pezzi da 90 si tengono in servo tutti alla fine. Un bravo giocatore, Maurizio Chiacchiarelli, non c'è che dire, appena approdato Alfano, ma non crediamo però sia proprio. Un top player della categoria lo era Stivaletta del San Nicolò che merita altri posti piuttosto che la Serie D. I gioielli della San Benedettese fanno gol a tante ma per ora non si sono mossi, fa eccezione. Tozzi Borsoi che già aveva dichiarato a campionato in corso che avrebbe lasciato San Benedetto del Tronto. Pare quasi stia diventando la classica telenovela sotto l'ombrellone, quella tra il Campobasso e la coppia gol molisana del Fano, Sivilla e Borrelli. Sarebbe stabilito per oggi un appuntamento tra il DS del Fano Canestrari e i due giocatori. Voci vicine agli ambienti fanesi raccontano di un Sivilla che avrebbe recentemente declinato un'anlettante proposta contrattuale girata dal Campobasso per rimanere ancora un anno alla corte di mister Alessandrini. Ancora da definire la posizione di Borrelli che evidentemente verrà presa in esame nell'incontro suddetto. Il Campobasso sta inseguendo i due giocatori da tempo ma sembra che questi siano restii a lasciare Fano benché i rapporti con la società marchigiana abbiano subito qualche frizione. È vero che tuttavia non li ha compromessi del tutto. Insomma mercato non facile per il DS Rosbluminadeo alle prese con la costruzione di un organico di alto profilo così come è nelle intenzioni della società di Selvapiana per il prossimo anno. Qualcuno negli ambienti della quarta serie parla del Campobasso come la squadra da battere anche se questa squadra fondamentalmente ancora deve essere quasi per intero costruita. Tra le recenti conoscenze Rossoblu c'è il centrocampista sardo Claudio Pani che da qualche giorno si è legato a una squadra militante nella Serie A del campionato maltese mentre Di Gennaro, anche egli da considerare un ex Rossoblu, giocherà in una squadra tra Pineto dove ritroverebbe Miani, San Nicolò o Renato Curiangolana. Scelta precisa, quella dell'ex attaccante del Matera che risiede a Pescara per cui è facile capire come la sua volontà sia quella di non spostarsi troppo da casa.